A me pare che il Presidente del Consiglio cerchi delle giustificazioni per arrivare al voto. Credi che abbia paura? Guardate, io lo dico con meno... non ho l'eleganza... Sì, stiamo allontanando... di Cuperlo o la diplomazia di Tattorre. La cemera... Lo dico con grande chiarezza, Matteo. Eh, ma niente, no... No! È inaccettabile la delegittimazione morale e politica che ogni volta fai in queste sedi di chi ha posizioni diverse dalle tue. Beh, se fosse stato per me... Non sto in Parlamento per frenare, per boicottare, per bufare, per far fallire le riforme. Allora, mi lasci parlare o no? Sto in Parlamento per esprimere il mio punto di vista costruttivo come quello tuo e come quello di altri. Stai parlando solo tu e i miei propri arrotti cagliani! E non ti permetto più! Perché non sarà un'automa, sarà una persona! È l'ennesima volta che lo dico... A un certo punto te lo devo proprio dire! Affanculo! Di fare le caricature di chi la pensa diversamente da te! B-A-F-F-anculo! È inaccettabile! Tu, il tuo negozio, la tua villa di merda, mi fai schifo! E smettila di scaricare la responsabilità sulle spalle di altri! Sonzo!